Ho visto l'invito per questa serata e avendo ormai da tempo iniziato a percorrere luoghi in cui gli artisti trovano accoglienza come dei profughi bene accolti, che il mondo dell'arte assomiglia a quello dei migranti che cercano di andare da una terra infelice o difficile a una terra di felicità che è il luogo del successo. L'artista più di ogni altro ha l'ambizione che il suo nome si affermi, vale per la musica, vale per la poesia e certo è difficile, la competizione è sempre più alta e quindi incontro molti artisti contemporanei avendo rinunciato tra le tante cose che ho fatto e continuo a fare nel mondo dell'arte a fare il critico nel senso di curatore, la figura del curatore che richiama molto gli ospedali, ci vuole qualcuno che va curato, il curato è anche quello che si occupa delle anime, il prete, è una figura che non è mai piaciuta, però il curatore è uno che si fa i fatti suoi utilizzando qualche artista che spinge sul mercato. Quindi poi a un certo punto la grande categoria dello storico dell'arte a cui io appartengo, che riguarda la storia, nei maestri che ho avuto arrivava fino all'arte contemporanea, quindi un grande critico vedeva Mantegna, Bellini, Giorgione e poi vedeva Morandi, vedeva De Pisis e li vedeva critici d'arte, storico dell'arte, critico dell'arte. Poi sono nati i curatori delle mostre e in parte quelli che si chiamano critici militanti, come dei soldati che combattono per non si sa quale obiettivo o guerra e poi recentemente una figura particolarmente ambigua, curatore indipendente, che è una figura di un giovane che non sapendo da chi dipende, non avendo lavoro, si trova per una galleria o per un museo a fare una mostra e si freggia di essere indipendente, ma non lo è quasi mai, perché dipende dal mercato, dipende dalle pressioni, per cui gli artisti sono orfani e non hanno biennali, non hanno quadriennali, hanno spazi spesso privati come questi che fanno la superazione, la fama e la ricchezza, che la ricchezza si può raggiungere in tanti modi, la fama è un riconoscimento che gli altri vedono in quello che tu fai e si rappresentano in quello che tu dipingi, per cui per voi sono tempi difficili, ma sono anche tempi in cui tante più persone ambiscono a muoversi nell'arte, come se fosse una necessità, un'urgenza, una ragione interiore, quindi un diritto, ecco un diritto, dico spesso che i diritti della Costituzione sono il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla scuola, il diritto alla libertà di parola, adesso bisogna aggiungere negli ultimi 50 anni il diritto alla creatività, essere creativi ti fa stare meglio, crea un rapporto con gli altri e in alcuni casi crea anche una grande importanza e notorietà perché tu rappresenti quello che gli altri si riconoscono in te. Allora detto questo in premessa, quando ho ricevuto questo invito un po' diverso da solito, ho visto una bella galleria, ho visto International Vision, ho detto chissà chi l'ha fatto, è più importante della Biennale, poi ho letto Demma e ho come dire, il partito democratico, Renzi, Gentiloni, Demma, quando vogliono chiamarli li chiamano Demma, che vuol dire che sono democratici, non è una grande distinzione, perché sono democratici tutti, a parte qualche residuo fascista, quindi è un partito di tutti, allora diciamo che senza P Demma sono tutti e quindi anche voi. Poi ho visto Art Gallery, molto ben disegnato, c'era anche la mia fotografia, siamo sempre noi con una bella cravatta e quindi mi sono compiessuto, però non pensavo, arrivando, e poi mi hanno detto appunto a Mestre e non a Venezia, ma le ritengo una sola città e ancora un referendo non le ha rivise, di trovare uno spazio così allegro, così festoso, così direi natalizio e vedendo tante persone qui ho pensato che eravamo qua per farci gli auguri di Natale, quindi che da un lato la mostra, ma da un lato la data, l'associazione, l'affetto che manifestate a me, io sono contento perché ho vissuto anni di scontri, in mille polemiche, oggi mi pare che sono meno le polemiche, io comunque non rinuncio, non è che se capita sono pronto, l'altra sera ho rinunciato ad andare in televisione con Asia Argento, che sto invecchiando, lasciamo perdere, poi mi tocca di litigare per forza, siamo qua nei giorni di Natale, però in linea generale io sono, nonostante quello che qualcuno può pensare, un uomo mite e sereno e socievole, la mia natura è questa. Poi mi alzo la mattina che sono contento, lungo la giornata incontro una tal quantità di stronzi che verso sera mi incazzo, però è tutto legato, questa sera invece ho incontrato persone gentili, affettuose, piene di desiderio di incontrare una persona che in questo prende il posto dell'artista, cioè l'artista vuole rappresentare qualcosa per tutti, io non faccio l'artista ma forse le mie parole rappresentano qualcosa per cui le persone manifestano attenzione, consenso, quindi io ho una natura di artista e l'artista si muove con un linguaggio figurato, mi muovo con un linguaggio delle parole, però il vostro consenso, la vostra attenzione, il vostro amore per quello che fate e volete che io veda e la vostra attenzione per il mio giudizio sono conforto e augurio che rende quello che ho fatto fin qui, una cosa tutto sommato giusta, sono abbastanza avanti negli anni ma ancora fresco di idee e stiamo, come sapete, sono appena diventato assessore, quindi ministro in Sicilia dove c'è l'autonomia dei beni culturali e saupro e tra un po' si vota per le politiche, basterebbe per vincerle che ognuno andasse al posto per cui ha competenza quindi io saprei già dove essere destinato, se questo avverrà vuol dire che c'è stato un piccolo passo avanti non che sia fondamentale che io diventi ministro, ma se ognuno un bravo medico, se un bravo scienziato, se un bravo critico d'arte andassero ognuno nelle sue competenze, forse si potrebbe sperare che con idee di cose, per fare bene occorre conoscere, se non conosci non fai bene e se devi prepararti per fare quello che non sai non sai ancora, dopo cinque anni hai appena cominciato, quindi fai in tempo magari a studiare quindi occorre aver studiato prima in questo io credo che l'idea di un rinascimento che ho evocato sul piano anche politico sia un modo per inserire nell'attività politica un'idea per cui la cultura in Italia è prima di tutto e quella cultura produce bellezza e l'ha già prodotta e produce benessere e può produrlo Venezia ne è un esempio, si può fare meglio ovviamente quando ho letto da qualche parte, c'era il sindaco Brugnano, che Venezia aveva un deficit di 800 milioni di euro dico figurati Varese, perché se una città così frequentata, così turistica ha un deficit vuol dire che ci sono dei ladri in giro, perché si può dire qualunque cosa di Venezia ma l'economia del turismo qui è andata molto avanti, ha sempre avuto e come fa ad essere in debito? certo, e allora venne fuori l'arte e in maniera provocatoria Brugnano disse vendiamo un Klimt, alcuni si ribellarono, in fondo era una soluzione indolore Klimt non è un autore veneziano, è arrivato con la Biennale era una provocazione però, ed era come dire l'arte può salvare una città è un paradosso, perché avete visto, parlando di cose che riguardano il vostro lavoro che è un dipinto non di un pittore moderno, ma di un pittore classico come Leonardo ha fatto 450 milioni di dollari il primo pensiero è che sono molti il secondo pensiero è che sono la metà di una squadra di calcio il terzo pensiero è che sono come tre calciatori il quarto pensiero è che l'Italia non ha concorso per comprarlo allora, non è che non spendano quella cifra per fare delle grandi puttanate quindi non è che manchino i soldi, manca la coscienza non si pensa che un Leonardo può portare più sommamento di un chilometro di tangenziale o di una orripilante costruzione come la nuvola di Fuxas che è costata più o meno lo stesso quindi si ha un'idea strabica di quello che siamo un Leonardo in più poteva anche tutto sommato non essere una spesa poteva essere un investimento io ho parlato con Berlusconi come lo sai con quello che devo dare a Veronica non c'ho più una spesa però se sospendi un po' di assegna a Veronica ti compro Leonardo ma questo è per dire che il fatto che non ci abbia neanche pensato c'era pensato un russo come oggi qui siamo e poi quel russo l'abbia venduto agli Emirati Arabi o a Abu Dhabi e fa pensare vuol dire che Abu Dhabi ha capito che Leonardo è importante e noi che l'abbiamo avuto se lo siamo dimenticati c'è qualcosa che non funziona cioè dimenticare Leonardo vuol dire non valutare che quella è una direzione in cui si può avere sviluppo, potenza, benessere e va però pensato, occorre una strategia ecco perché ho fatto questa riflessione dicendo che sostanzialmente noi abbiamo una concezione della nostra nazione che non è ancora abbastanza focalizzata sull'importanza del patrimonio artistico che è pochissimo conosciuto vero che voi muovete nell'arte ma l'altro giorno facevo un convegno con un gruppo della Mercedes e ho fatto vedere un dipinto di Bellini, pittore veneziano ho detto lo conoscete? No, nessuno siete mai stati a Rimini? Sì, tutti quel quadro sta a Rimini allora vuol dire che nessuno ha alzato il culo per andare a vederlo non sarà grave però fa pensare che uno va a Rimini per una ragione e non ha la curiosità di vedere un'opera certo Bellini non è Leonardo come notorietà ma il quadro è bellissimo se qualcuno di voi va a Rimini non lo perde una pietà bellissima negli angioletti meravigliosi mi divertiva pensare che tutti erano stati a Rimini tutti la conoscevano e nessuno, non uno, conosceva quel quadro vuol dire ignoranza ma non che tutti sono ignoranti vuol dire ignoranza di qualcosa che è peculiare se l'Italia è conosciuta nel mondo è per la bellezza che ha espresso e quella bellezza deve essere dentro di noi e dobbiamo essere in grado sia di conoscerla sia di produrla quindi voi fate bellezza e questa bellezza deve essere considerata per quanto vale non sottovalutata insomma considerazioni di ordine generale mi fanno capire che la politica può anche essere una cosa non brutta se è giocata con intelligenza e con saggezza perché un tempo prima che arrivassero i vari Di Maio e gli altri Laboschi e delle figure che fanno un po' ridere c'erano Benedetto Croce Piero Govetti Antonio Gramsci c'è la politica richiedeva delle idee perché un'idea produce una conseguenza se non hai un'idea puoi anche andare al potere ma non fai niente perché? perché ti mancano le idee ecco vi ho fatto questo ragionamento per dire che io confido nel futuro in cui fra un po' saremo tutti in campagna elettorale mi auguro non tanto di essere ministro ma di poter avere una responsabilità che corrisponde a quello che io ho coltivato e ho conosciuto e che questo tocchi per tutti solo la competenza può risolvere molti problemi poi ci sono i deficit del debito pubblico mille questioni ma l'idea che siamo tutti qua intorno al tema dell'arte si fa capire che essa è una necessità non è una cosa superflua perché riguarda la nostra anima e la nostra capacità di avere uno spirito diverso da quello di altri popoli e quindi su quello investire per avere un futuro che dia senso all'essere in Italia essere a Venezia essere a Firenze ecco queste sono alcune osservazioni che sono anche un augurio che non è un augurio per i dem o per il non dem ma è un augurio perché si possa finire di disprezzare la politica che fanno quelli che non avendo niente di meglio da fare rubano i soldi lì questo non va bene quelli che hanno qualcosa di meglio non lo fanno io parlo spesso con persone che non la vogliono fare mentre io ho pensato che era giusto farla perché fanno i loro interessi quelle forme di egoismo sono legate al fatto che la politica è stata fatta in modo spesso spreggevole quindi non voglio convincervi a cambiare idea sopra quello che pensate della politica ma che una persona intelligente possa fare attività politica è sicuramente una garanzia che riguarda come dici? sto parlando di arte ma tu non lo capisci perché non capisci un cazzo stavo parlando di arte ho parlato di arte ti posso anche parlare di economia dell'arte un quadro di Leonardo costa 80 euro la tela costa 40 euro la cornice costa 50 euro il colore 20 100 euro però lo vendono a 450 milioni di euro e ti è chiaro o no? sto parlando di arte sto parlando di investimento parlo di politica per chi usa il cervello non come te che non ce l'hai altrimenti non facevi questa osservazione di Berda parlavo di arte nello Stato ti è chiaro o no? parla di arte cazzata da stronzi parlo di arte cercando di non parlare di arte che bello questo rosso che bello questo verde quando è nato Bellini 1430 non lo sapevo posso parlarti di arte fino a schiacciarti ma non va la pena di parlare di arte in modo nozionistico devi parlare del significato dell'arte e di capire che è il miglior investimento possibile per gli uomini e per la loro anima ma non per caso ho pensato ho citato Croce che è arte e politica ho citato Gobetti Gramsci ho citato cultura e ho chiamato una scelta politica Rinascimento mi pare chiaro che si basa sull'arte come devo chiamarla comunque insomma parliamo di arte e economia Leonardo o Van Gogh il quadro di Van Gogh costa 100 euro vale 150 milioni perché? perché quello spirito determina un effetto positivo sul piano dell'economia questo ho detto ma non mi pare che ho deviato dal concetto siccome siamo in una galleria d'arte e si fa arte in galleria per vendere i quadri non si sta qui per guardare la Madonna dipinta c'è evidentemente un nesso fra arte e mercato fra arte e economia fra arte e stato bravo 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 va bene detto questo votate 5 stenti non sanno come sia l'art Comunque detto questo voglio farvi gli auguri di Buon Natale Devo dire che il Natale non è soltanto una festa religiosa ma è l'identità della nostra cultura anche per chi è ateo e che una grande religione abbia creato tante natività tante madonne con il bambino, tante pietà è il segno che noi dobbiamo, anche se non abbiamo fede essere felici di essere cristiani e di vedere nel cristianesimo una civiltà straordinaria che ha espresso una bellezza senza fine quindi Buon Natale, auguri a tutti e speriamo che la bellezza salvi il mondo se il mondo salverà la bellezza